Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Katelyn Lee, 25 anni, è stata uccisa dal suo ex fidanzato, Joshua Thompson, mentre registrava un video su TikTok con un'amica nella cucina del suo appartamento in Indiana, USA. Thompson, già arrestato in aprile per violenza domestica e soggetto a un ordine restrittivo, si è appostato fuori dalla finestra, bussando con la pistola prima di sparare un colpo mortale alla testa di Katelyn. Nel video, si sente la vittima chiedere cosa ci fai tu qui, prima dello sparo. Madre di tre bambini, Katelyn viveva una relazione definita tossica dalla sua amica, presente al momento dell'omicidio. Dopo il delitto, Thompson ha chiamato suo fratello e successivamente i soccorsi, ammettendo di aver sparato alla madre di suo figlio. La famiglia di Katelyn ha avviato una raccolta fondi per il funerale. La cugina ha espresso il dolore per la perdita, ricordando i tre figli rimasti senza madre a causa di un atto crudele.